Ricky the Dragon Stimbot vs Macho Man Randy Savage 29 marzo 87 Brestal Mania 3 Il ruggito del drago Ricky Stimbot è in cerca di vendetta contro Randy Savage per il WWE Intercontinental Championship Il pubblico di tutto il mondo è con il fiato sospeso mentre uno dei grandi classici di Brestal Mania si svolge di fronte ai suoi occhi Ah aspetta Parte da Brestal Mania 3 Difficile ok Ah le prime due non li caga proprio mai nessuno Probabilmente nei 30 anni Brestal Mania Brestal Mania 3 C'era questo Eh Il Verdun di Pontiac 93.000 persone C'era questo C'era questo Che bello rivedere ancora queste cose qua In un altro mondo Ehm Ah Ah The Animal Che cosa ce ne ricordiamo io e te prima Con la lingua blu Basta Io ero in questo mondo Mamma mia Grazie per la visione 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 Danneggia Grazie per la visione 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti